Un Shuv Dei Asant, il Giovedì Santo, è senz'altro il più bel canto della passione pasquale nella tradizione di Minervino Murge. La sua origine si perde nel tempo. Mi sarebbe piaciuto avere una bella voce per parlarne e una bella voce per cantarlo. Dovete accontentarvi di quello che ho. Un Shuv Dei Asant, la Madonna s'ingegna umant. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.